Il Data Mart degli acquisti dà la possibilità di poter eseguire indagini e statistiche sugli acquisti effettuati dall'azienda per i diversi articoli, dai diversi fornitori, nei diversi periodi. Sarà poi possibile confrontare, tramite Drillacross, i dati degli acquisti con quelli delle vendite o degli ordini fornitori. Nel report nominato Acquisti fornitore per mese, ad esempio, dalla scheda Campi sono stati selezionati, in area Righe l'attributo Ragione sociale fornitore, in area Colonne l'attributo Mese data, mentre in area Dati è stata inserita la metrica Totale acquisti. Nella scheda Ordinamento esputotali è stato eseguito un ordinamento ascendente per entrambi gli attributi presenti nel report. Inoltre, dalla scheda Soglia, si è impostata l'evidenziazione per fornitori con il totale acquisti maggiore di 100.000. Il risultato così ottenuto mostra il totale degli acquisti per ogni fornitore nei diversi mesi dell'anno, evidenziando gli acquisti maggiore di 100.000.